Allora, Nino, andiamo... Pronti? Pronti? Eccolo qua. Allora, andiamo al direttore vicente. Ultime notizie. Nino Frassica. Gigi, puoi preparare una domanda per Max Biaggi, eh, però? Va bene. Per il finale. Ecco qua. Perché due leggi? Eh? Perché due leggi? Il leggi è mio, questo. E' quello che? No, noi ogni copia, costa un euro, regaliamo un leggi. Per ogni copia regaliamo un leggi. Così uno a casa se lo legge. Comodamente, capito? Il gadget. Il gadget. Allora, caro Fabio, adesso rimani sghibottito. Va bene, appena saprai cosa è successo qua, ha tanto tempo che fa. No, allora mi si chiama. Come si chiama? No, mi si chiama il tavolo. La settimana scorsa io ho dato i numeri, quattro numeri, una quaterna. Una quaterna, sì. 6, 48, 55 e 74. Sì, mi pare di sì. 6, la macchina fotocopiatrice. Ma non è vero, però. Sì. No, è una smorfia napoletana. 48, morto che parlo un giorno dopo. 55 pezzi di cartone buttati lì. Ma non è vero. 74 l'età di una persona che ha 74 anni. Adesso, caro Fabio, adesso tu ti rivolti nella tomba. Ma perché è la tomba? Allora, sono quasi usciti tutti e quattro quaterna secca. Ma che vuol dire quasi usciti? Che vuol dire quasi usciti? Sono usciti o non sono usciti? Sono quasi usciti. Ma che vuol dire quasi? Tutti e quattro. Ma come quasi? Cioè, invece del 6 è uscito il 66. Quasi 6. Ma non è uguale. Invece del 48 è uscito il 50. Due numeri. 55 è uscito il 15. Ma che c'è il 55 con il 15? Il 74 è uscito il 47. Ma non sono usciti. Ci pensi, ma ti rendi conto? Ma non sono usciti. Quasi, sono quasi usciti. Oggi 18 febbraio, corrente mese, corrente anno. Il sole sorgerà tra le 6.30 e le 6.38. Dipende dal traffico, stelle. Oggi San Elarto. San? San Elarto. Mai sentito. Auguri a tutti i Elarti e le Elarte. Mai sentito nessuno. San Elarto, protettore di quelli che quando li incontrate vi dicono una sera di questa andiamo a cena. Poi passano mesi, per non dire anni, e di questa cena non se ne parla. Poi lo rincontrate e vi dice dovevamo andare a cena, non siamo andati. Stavolta ci andiamo, guarda che in settimana ti chiamo e ci mettiamo d'accordo. San Elarto è il protettore di tutti questi. È il protettore di quelli che quando li incontrate si dicono No, 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 ok, una sera di questa andiamo a cena, poi passano mesi. I nati oggi, vi piace il lavoro, vi piace molto il lavoro. Stareste ore e ore a guardare quelli che lavorano. Voi dell'acquario siete modesti, umidi, sì lo siete, se non lo siate, siatelo, essendolo e siate, non capito. In esclusiva questa settimana abbiamo le foto di Sanremo, di Sanremo a 10, con Simone Cristicchi quando ha vinto ti regalerò una rosa. Ma quando è successo? 8 anni fa? No, è successo 11 anni fa. Eh? 11 anni fa. 11 anni fa? Va bene, non è che ci possiamo permettere le foto, costano i diritti da autorare. Saremmo 11 anni fa. Abbiamo un nuovo sponsor. Mi fa piacere. Agatino Franceschiello, killer e ricettatore di professione, manicure e pedicure per passione. Agatino. Consigliamo i libri. Va bene. Allora, i tre libri che consigliamo questa settimana sono cinque. Il primo libro è Come diventare direttore d'orchestra in 15 minuti. C'è uno studio per imparare subito e fare questo. Va bene. Il secondo preferisco non dirlo. Perché è volgare, è brutto. Il secondo preferisco non dirlo. Eh io dico, è brutto, è volgare. Il titolo è Preferisco non dirlo. Ma l'hai saputo fare? L'ho fatta bene. L'ho fatta bene. L'ho fatta bene. Guarda come la fa... L'ho fatta bene. Guarda come la fa Edoardo. Ma l'ho fatta bene. Il secondo è Preferisco non dirlo. Chi è bevissima non dirlo? Hai visto come ha detto bene? Ma l'ho fatta bene anch'io. E si è detta male. Ma l'ho fatta bene anch'io. L'autore è Giovanni Molano. Fallo con la Tognazzi, scusami. Tognazzi, fallo tu Gianmarco. E io dico, no, il titolo è... Terzo libro. Eh? Frasi sporche da insegnare a Pappagalli 2. Perché? Dopo il successo, perché era... Avevano già fatto Frasi sporche da insegnare a Pappagalli 1. Adesso ha avuto successo e c'è il seguito. Ma chi è che insegna? Frasi sporche da insegnare a Pappagalli 1. Si può leggere qualcosa? Si compri il libro. Ce l'hai il Pappagallo? No, non ce l'ho. Allora, quarto. Però è un'idea bellissima che comparsi un Pappagallo. Va bene. Una nuova edizione del romanzo di Luigi Pirandello. Uno nessuno 100.000. Quest'anno uscirà uno nessuno 50 euro. Questo è per Sabrina. Perché? Eh, perché, stai a vedere. Quinto, la bella addormentata è Don Bosco. E ce n'è lento, la bella addormentata. Abbiamo pure la pagina degli annunci. Capito? Così noi cerchiamo di guadagnare cosa. Allora, il nostro giornale, modestamente, è un giornale co... Completo. No. Co... Costruito. Co... Complesso. Costoso. Complesso. No. Completo. Ma l'ho detto per primo. È il primo. L'ho detto. Non l'hai saputo dire. Non l'hai saputo dire. Ma l'ho detto. Non si capiva. L'ho detto. Ho detto completo. L'ho detto o non l'ho detto? Sì. L'ho detto. A, 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 a. Non c'è qua. A, 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 a. Vendo bastone da selfie lungo 500 metri per foto panoramiche. crociera nel Mediterraneo a soli 99 euro partenza da Genova e arriva a Palermo con escursione sul Gran Sasso d'Italia per cessata attività vendo 800 biglietti da visita come nuovi come non sa che farsi ha riso per quella del Mappagallo canale 5 novità in tv dopo il Grande Fratello dopo il Grande Fratello Vip prossimamente il Grande Fratello di Rosanna Fratello che è uno show per conoscere meglio il fratello di Rosanna Fratello speriamo che Adriano non ci guardi più seguirà la jalapas con mai dire Grande Fratello di Rosanna Fratello chiudiamo molestie nel mondo del cinema in America è stato in America adesso lo fa a New York lo so purtroppo molestie nel mondo molestie nel mondo del cinema l'attrice statunitense Ava Sanders Anderson di 133 anni ormai in pensione accusa Charlie Chaplin in arte Charlotte dicendo Charlie mi molestava Charlie mai molest il giornalista le dice porquà l'ha detto ordo tant temp allora l'attrice ha risposto cercai di protestare ma allora il cinema era muto bravo 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 miro fra